Salve a tutti ragazzi, sono Nelda Alfaioli e oggi siamo su un nuovo video. Oggi vi parlerò di tutti, di tutti i giochi di Metroid. Oggi farò una classifica di tutti i giochi di Metroid dal peggiore al migliore. Dalle 3 del 2021 la Nintendo ha annunciato finalmente dopo... Quanti anni sono stati? Dopo 4 anni hanno annunciato un nuovo capitolo di Metroid. E io sono veramente curioso perché ho visto il gameplay, ho visto la demo ed è bellissimo. Hanno aggiunto anche nuovi strumenti per uccidere i nemici. Oppure ho visto anche che puoi anche diventare invisibile. E niente, visto che sta arrivando Metroid Dread, ho deciso di fare una classifica di tutti i Metroid dal peggiore al migliore. Numero 13. Metroid Prime Pinball. Questo gioco è stato rilasciato nel 2005 per la console Nintendo DS. Che cosa consiste in questo gioco? In questo gioco... Consiste... Di... Fare più punti possibili. Ed è anche una prova... Ed è... Cioè, allora... Questo gioco... È una prova a tempo... In versione Flipper... Di... Del primo... Del primo Metroid Prime originale. Ma... Ma seriamente Nintendo... Ma che cosa stava facendo? Cioè, ragazzi... Guardate il gameplay... E ved... Sì, è un po' divertente... Un po' divertente... Tipo... È un tipo un rage game... Ma... Ma veramente... Si bisognava farlo... Numero 12. Metroid Oderham. Titolo Oderham sta per un'altra merda, diciamo. Il gioco in questione... È un gioco rilasciato nel 2010 per la console Wii. Questo... È l'unico Metroid rilasciato per la Wii. E adesso... Sì, l'unico Metroid. C'è anche Metroid Prime 3. Beh... Però... Vi dico... Che cosa... Perché l'ho messo in questa posizione. La... Il gameplay... Non mi è pi... Non mi è... È un po' be... È un po' becchettino bello. La visuale è anche bella. È un tipo un piattaforma. Una piattaforma in 3D. Ma... La trama del gioco... È molto confusa. Per esempio, questa trama... Narra dopo... La dopo la fine di Super Metroid. Ovvero Metroid per la SNES. E... Sì, c'è... All'inizio c'è stata... C'è stata tipo una... Una piccola scena... Di... Di Super Metroid in versione 3D. In cui Samus si scontrava con Mother Brain. E c'era il piccolo... Il cucciolo di Metroid. Che ha salvato Samus. E si è sacrificato... Per... Creare un nuovo... Un nuovo raggio. Sì, bella come idea... Realizzare un sequel di un gioco... Già fatto tanto tempo fa... Ma la trama... La trama... Non c'è niente da dire. Anche in molti... Non è piaciuto molto. Anche in molti non è piaciuto molto... Metroid... Oda Rem. 11. Metroid 2 Samus Return. Questo gioco... Io... Non è che dico che è brutto. Ma... Il problema... Però... Il gameplay mi piace. Però... C'è soltanto un piccolo problema. Ovvero orientarsi. Se esisteva da un tempo... Quando è uscito sto gioco... No, non esisteva neanche internet. Però... Il problema era orientarsi. Perché... Non riuscivi a capire... Dove... Dov'eri. Non riuscivi ne a capire dov'eri. Perché non c'era ancora la mappa. Era una sottospecie di labirinto. La trama. Si è basata su qualche film, eh. Praticamente la trama di cosa parla? Praticamente... Parla che Samus... Deve eliminare... Il pianeta natale di Metroid. E che cosa c'è di strano? Deve eliminare tutti i Metroid. Sì! Ma il post finale di questo gioco... Si chiama Queen Metroid. Ok? Queen Metroid... Ci siamo. E sapete dove... Si sono basati un pochettino... Non è che... Mi sono basati un pochettino, eh. Si sono basati un pochettino. Cioè si sono basati su Alien. Si sono basati... Su Alien. Numero dieci. Metroid. Metroid. E scusate se ho acceso la luce ora perché me ne sono dimenticato. A proposito. Metroid. Il primoissimo Metroid. Va bene. È bello questo gioco. A me mi è piaciuto molto. Ho provato... L'emulatore. Non sul telefono, sul pc. E... Come si può dire? È tipo Metroid. Sì. Ha lo stesso identico problema. L'orientamento. Numero nove. Metroid Samus Return. Il remake per il Nintendo 3DS. A differenza del... La versione del... Per il Game Boy. Il Metroid... Due per il Nintendo 3DS. Ha soltanto una piccola differenza. Ah. Ecco. Siamo ritornati nella nostra navicella. Dai, facciamola partire. A caso. Oddio, c'è un... C'è un temporale. Oh no! C'è Ridley! Ah! Dobbiamo attaccarlo subito. Perché ammazzi il piccolo. Seriamente? Seriamente? Avete aggiunto Ridley? Anche se nella versione remake... Non c'era? Sì, nella versione originale non c'era. Ma io dico... Ma chi è sta gente che ha sviluppato Metroid? Numero otto. Metroid Zero Mission. Per il Game Boy Advance. Questa trama di Metroid Zero Mission... È una versione sempre remake del primo Metroid. E che cosa c'è? In questa trama... Narrano per la prima volta... Credo che sia in questo gioco. Poi se sbaglio... Faccio... Non sono... Non so bravo. Narrano le origini... Di Samus Aran. A differenza... Del primo Metroid... Sappiamo tutti che questa trama è seria... Che narrano le origini di Samus. L'ho detto ancora per la seconda volta... Ma... Per me... Mi è... Per me l'ho provato e mi piace. L'ho provato e mi piace. Sì. Però non ho capito... Sì. E ci sono due fasi di gioco. La prima fase... Questa. Seconda fase... Questo. Certo! Seconda fase sembra Metal Gear. Numero 7. Metroid Prime Hunters per il Nintendo 3DS. In Metroid Prime Hunters... In questo gioco... Ah... Tipo... Come si può dire? Eh... È un gioco... Dimenticato. Diciamo. Un gioco dimenticato di tutta la serie... Di tutta Metroid. E... Questo gioco... È... Una versione del Nintendo DS... Per il Metroid Prime. Una versione del Nintendo DS... Con una trama... Che non c'è una trama... Di Metroid Prime. Ma... Ma... Ho visto alcuni gameplay... E devo dire che mi è piaciuto. Devo dire che mi è piaciuto un sacco. Numero 6. 5 e 4. La serie... Di Metroid Prime. Rilasciata per... Sia per Wii... Gamecube... E... Nintend... E... Wii U. E... Hanno detto che risceranno... Per Nintendo Switch... Ma... Questo non so molto. In questo gioco... L'ambientazione... È veramente... Figa. Il gameplay... Fatto bene... Anche se... Dal... First Person Shooter... Sembra tipo... Una... Uno di quei... Giochi... Che vedi... Nelle sali dei giochi... E vi dico... Una cosa... Che... Secondo me... Io dirò una cazz... Una cazzata... Però... Io la dico... Sembra Dark Souls. Qualcuno mi dirà... Eh... Allora... Se è simile a Dark Souls... Doveva avere le spade... Lo so ragazzi... Lo so... Ho detto una cavolata... Ma... Per me... Lo so... Sembra un Souls-like... Anche se non lo sembra... Per me... Lo sembra... Ehm... Certo... Ho detto una cavolata... Sì... Io... Dovevo dirla sta cosa... Dovevo dirla che... Era... Era tipo un Souls-like... A differenza di... A differenza del... Metroid Prime Hunters... Per il Nintendo DS... Ha... Una map... Ha delle porte... Talmente strane... Che non so come... Ambino fatto... E dall'altro... Lo spiluppo... La mappa... La mappa... E dalmente grande... Dovete sapere anche una cosa... Che anche i boss... Sono... Sono fatti... Le battaglie contro i boss... Sono bellissime... E dall'altro... C'è anche un warn... C'è anche... Non so se si vede... Si... Si vede... A sinistra... A sinistra... C'è anche un warning... Che ti dice... Attenzione... Ti sta sparando uno... Tutto così... E... Vi dico che questo gioco... Per me mi piace... Numero 3... Metroid Prime Federation Force... In questo gioco ha avuto delle aspettative... Dele aspettative... Un... Molto belle... Diciamo... In questo gioco... Non siamo... Sempre... Samus... Perché... Vi spiegherò un po' la trama... Saremo... Un soldato... Della Federation Force... Ovvero... Che cos'è la Federation Force? È una base militare e spaziale... Che... Samus è sempre in contatto... E in questo... In questo capitolo di Metroid Prime... Federation Force... Deve... Come si può dire... Deve... Deve sal... I militari devono salvare... Samus... E... In questo gioco... Da quello che ho visto... Da quello che ho visto... È veramente stupendito... È veramente... È veramente bello... In Metroid Federation Force... Siamo questo soldato qui... Che si vede dalla copertina... E... Dall'altro... Ho scoperto... Che si può giocare... Al massimo... In quattro... Un Metroid multiplayer? Ci è sempre... Ci è sempre stato... In Metroid Prime... Un... Un gioco... Multiplayer... Su Metroid... Numero 2... Super Metroid... Ora molti si incavoleranno... Perché io ho messo in seconda posizione... Super Metroid... Allora... Vi dico... Una cosa... È veramente una figata pazzesca... È veramente figo... Questo gioco... La colonna sonora... L'ambientazione... I boss... Tutto... Tutto... Tutto il gioco... È meraviglioso... C'è... Io sto gioco... Dall'altro... Se lo volete... Posso portare in live... Posso portarlo in live... Sul canale Viola... Ma devo preparare... Alcune piccole cose... Visto che... Ancora non sono pronto per Twitch... Ehm... Praticamente... Allora... Parliamo... Del gameplay... Iniziamo dal menu... Principale del gioco... Ovvero... Metroid 3... In cui si può vedere... Il cucciolo di Metroid... Intrappolato in un laboratorio... Dove si vede... Anche della gente morta... Ma chi sarà mai... Questa persona... Che ha ucciso tutti... Ridley... Certo... Ridley... Ridley è sempre immortale... Perché... Ci sarà un... Gioco dove non ci sarà... Sì... C'è stato Metroid Prime 2... Come gioco... Ma... Io volevo vederlo... Secondo me... Sono cloni... Di Ridley... Poi in sto gioco... Dall'altro... Ha anche degli strumenti da utilizzare... Per esempio... Il grappling... Che serve per... Appoggia... Per esempio... Per... Per... C'è... Questo raggio laser... Che ti fa... Che ti fa... Ehm... Camminare sui muri... No... È tipo Tarzan... È una cosa... È tipo Tarzan... Oppure... C'è anche la doccia... Che puoi vedere... Quali sono le barriere... Quali sono le barriere... Che si può distruggere... In questo gioco... Secondo me... Ha superato... Tutte... Le mie... Aspettative... Ma non come il primo... In che senso... Ma non come il primo... Leonardo... C'è... Ma non come il primo... Ovvero... In prima posizione... Numero 1... Metroid Fusion... Ragazzi... È stato... Il mio primo... Metroid... Diciamo... Il mio primo... Metroid... E mi è... Piaciuto... Molto... L'ho finito... L'ho finito... Anche al 100%... Seguendo... Alcune guide... Per cercare... Le... Espansioni... Sì... Anche se... Molti dicono... Che... Questo gioco è facile... Perché ti da... Perché c'è una guida... Che ti dice... Dove... Dove devi andare... Anche se per me... Mi è piaciuto... Un casino... Questo gioco... Anche se io non seguivo la guida... Seguivo dove stavo andando... Perché... È bello sto gioco... È bellissimo... E niente ragazzi... Questo... È... La mia... Classifica... Di tutti... I giochi di Metroid... Ora... Forse non avrò detto... Alcune cose che... Forse le ho già dimenticate... Ma vi dico che questa... È la mia... Classifica di Metroid... Ora dobbiamo aspettare... Metroid Red... E forse... Metroid Prime 4... Quindi ragazzi... Ci vediamo al prossimo video... E... Lasciate un like... Iscrivetevi al canale... E ci vediamo... Ciao...